Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi seconda parte del video dedicata agli acquisti di Aliexpress. Non so se avete visto il primo video che avevo fatto dedicato ad Aliexpress, ve lo lascio in infobox perché sapete che comunque su Aliexpress le cose arrivano un po' alla volta, quindi avevo fatto la prima parte e adesso posso fare la seconda perché finalmente mi è arrivato tutto quello che stavo aspettando. Io in infobox vi lascio i link se riesco a ritrovare tutti gli articoli ma basta con le chiacchiere e andiamo insieme ad aprire le buste che mi sono arrivate, alcune cose invece le ho già aperte, comunque iniziamo subito. Il primo articolo che vi mostro è questa collana sole e luna, questa qua la vicino in modo che la vediate il meglio possibile, eccola qua, c'è sopra la luna e sotto il sole. Mi piaceva tantissimo questa tipologia di collana così col sole e la luna perché è un periodo che queste catenine con la luna, insomma con tutte queste cose mi affascinano. Io faccio dei periodi in cui sono affascinata da cose così, di questo genere qua. Poi il secondo articolo che vi mostro è una cover per cellulare, anzi in realtà sono due cover per cellulare. Una è questa che ha questo disegno con il gufo, spero che lo vediate senza riflessi, eccolo qua. E poi ho preso questa che ha la farfalla sull'azzurro con dei fiori su rosa, eccola qua. Mi piacevano tantissimo queste cover, io ho un telefonino vecchissimo perché è un vecchio smartphone con sistema Windows ancora che adesso ormai non esiste più, però ogni tanto riesco a trovare le cover, siccome piacciono anche a me le cover anche se non ho l'iPhone, mi piace cambiarle, quindi quando le trovo io le compro, questa volta ne ho trovate due e le ho prese. Comunque pur avendo un telefonino abbastanza vecchio sono riuscita ad accumulare un po' di cover, quindi poi magari farò un video dedicato a quello. Poi andiamo avanti con gli articoli, altrimenti poi mi perdo in chiacchiere. Dunque ho preso degli orecchini, scusate che qua ho perso la farfallina, cominciamo bene, comincio a perdere i pezzi, quindi insomma diciamo che il buongiorno si vede dal mattino, eccolo qua. Ok, ma niente di grave perché ho perso solo la farfallina quella dietro per tenere fermo l'orecchino e siccome ne ho tante ovviamente l'andrò poi a cambiare. Comunque, questi sono gli orecchini, spero che riusciate a vedere qualcosa. Non so come farveli vedere, ecco, sono fatti così, praticamente hanno questa forma un po' irregolare e mi piacevano tantissimo. Poi ho gli orecchini comunque li porto, lo vedete anche dai miei video che ho sempre orecchini diversi perché mi piacciono, ne ho tantissimi tipi e quindi io li utilizzo. E poi ho preso questo paio di orecchini con le foglie, adesso appena riesco ve li faccio anche vedere, eccoli qua, ho preso, sono due ma ve ne faccio vedere uno, ho preso questi qua che hanno la foglia fatta in questo modo. Eccolo qua, spero che riusciate a vedere, ecco, è fatto così ed è sull'argento. Questi sono leggerissimi, adesso che li ho in mano mi rendo conto di quanto sono leggeri. Poi vado avanti con gli articoli, ho preso due agendine mini, proprio mini mini, da tenere nella borsa. In realtà una andrà nella borsa e l'altra la terrò vicino al mio computer perché quando io vado su internet ho l'abitudine di segnarmi degli appunti, siti, canali youtube, libri che voglio leggere, film, serie tv, insomma tutto quello che trovo che mi voglio ricordare, lo vado a segnare in un quadernetto piccolino che tengo lì vicino. Adesso l'avevo riempito, quindi ho preso a 10 centesimi, mi sembra di averle pagate, ora non ricordo, ma veramente pochissimo. Queste due agendine piccoline, una la terrò nella borsa, magari questa che è un po' più carina, eccola qua, e questa la terrò magari dal computer. Mi sono arrivate a caso, nel senso che io non ho potuto scegliere il disegno della copertina. Era un'offerta proprio così mega galattica, perché 10 centesimi è veramente poco, adesso non so se avranno mantenuto lo stesso prezzo o meno, comunque. Però diciamo che il prezzo da pagare era quello poi in realtà di non poter scegliere il disegno, però considerando che sono cose che io tengo così per degli appunti, quindi niente di particolare, non le devo mostrare a nessuno, mi andava benissimo. Poi ho preso una cosa un po' particolare, ho preso un coperchio per la tazza del cappuccino, ora vi faccio vedere e vi spiego. Il coperchio è questo, è questo qua, e ha l'elefante sopra, questo è un coperchio in silicone, quindi voi lo appoggiate sopra la tazza e questo è il pomellino per andarlo poi a tirare su. Voi vi starete chiedendo cosa me ne faccio io di un coperchio per la tazza. Non è assolutamente per farmi la tisana e tenerla al caldo, ma è perché molte volte al mattino, quando sono lì lì per fare colazione, quindi mi sono seduta davanti al mio cappuccino e dico finalmente faccio colazione con calma, squilla il telefono e quindi io devo rispondere al telefono e il cappuccino nel frattempo si raffredda. Poi io lo devo mettere nel microonde, scaldarlo, quindi ho pensato di comprarmi un coperchietto da mettere sopra la tazza. Quindi quando mi succederà, perché sono sicura che mi succederà di nuovo, quando mi succederà io metterò questo coperchio e spero di riuscire a mantenere il cappuccino caldo. Poi ho anche valutato di non rispondere proprio al telefono, però poi cominciano a chiamarmi su quello di casa, sul cellulare, e quindi faccio prima rispondere, quindi anticipo la vostra eventuale domanda, perché rispondi al telefono, perché poi mi chiamano ovunque, quindi faccio prima così. Comunque mi sembrava veramente molto carino, poi c'è l'elefante, sapete che io adoro gli elefanti, ne vedete anche uno qua, quindi insomma le immagini parlano chiaro, e mi piaceva anche perché è tutto rifinito qua, lateralmente così un po' ondulato, insomma mi sembrava una cosa carina e comunque una cosa utile per me. Poi ho preso due cose un po' particolari, questi sono due adesivi, dunque vedete che c'è la parte adesiva che è questa, e poi qua c'è un gancio che si può spostare al centro, verso il basso, oppure verso l'alto. Questi sono da attaccare sopra alle porte, sopra, non so, all'anta dell'armadio, ovunque comunque vi serva avere un adesivo con un gancetto di questo tipo. Questo può essere utile qualora abbiate perso magari qualche pomello nell'anta dell'armadio, in attesa di sostituirlo, oppure può essere utile, come lo utilizzo io, all'interno dell'armadio per appendere delle cose profumate, quindi dentro l'anta dell'armadio io attacco questa cosa qua, tiro sul gancetto e ci appendo delle cose profumate, che solitamente sono dei nastrini, delle cose che lasciano poi una profumazione all'interno dell'armadio. E quindi insomma ho preso anche queste due cose. Poi ho preso un piccolo elefantino di peluche rosa, così, fatto così, in questo modo, a me piacciono molto gli elefanti, ho trovato questo in offerta e ho pensato di prenderlo e di appendermelo appunto all'interno dell'armadio, nell'anta dell'armadio, così quando apro l'armadio lo vedo, perché comunque mi piaceva, è piccolino, è un portacchiavi praticamente, però insomma lo trovavo veramente molto carino. Poi non so se ricordate, nella prima parte del video dedicato ad Aliexpress, avevo preso una cosa di plastica che serviva per andare a pulire gli scarichi del lavandino. Ha funzionato molto bene, devo dire, però ne ho trovato un'altra di queste cose simili, che mi sembrava più funzionale, che è fatta così, ha sopra questo fiore bianco e poi ha questa catenella con queste cose qua di plastica. Questa mi sembrava più funzionale dell'altra, perché voi potete inserire la catenella all'interno dello scarico, fino in fondo, tanto il fiore comunque bloccherà la catenella e non vi andrà a finire dentro, e poi potete tirarla fuori e a queste cose qua di gomma che vedete si attaccherà praticamente lo sporco e riuscirete a pulire lo scarico del lavandino. Funzionava benissimo anche l'altra, perché l'ho provata e ha funzionato, però questa mi sembrava ancora migliore, perché l'altra ha la plastica rigida, quindi poi nell'operazione di pulizia e soprattutto quando la tiravo su, tendeva un po' a incastrarsi. Invece questa mi sembra che sia veramente meno invasiva, perché questi sono molto morbidi, si piegano, spero che lo vediate, quindi insomma è più facile da usare. Poi questa è molto sottile, e quindi va a pulire anche quegli scarichi che sono fatti diciamo con più ostacoli, tipo quello del lavandino ad esempio di casa mia, ha abbastanza ostacoli all'interno, perché ha una serie di cose che poi facevano impigliare diciamo quei pezzi di plastica. E questo sicuramente è più adeguato, lo so che mi sono spiegata in un modo contorto, ma io non me ne intendo molto di queste cose, di scarichi del lavandino eccetera, quindi non so bene come spiegarmi, ma spero di essere riuscita a farmi capire. Il prossimo articolo ve lo faccio vedere direttamente qui, perché è un pochino più ingombrante. Questo è un mobiletto che io tengo in bagno posato sopra la lavatrice, e che ho deciso di utilizzare per andare diciamo a mettere tutti i miei prodotti di make up. È fatto in questo modo, ha questi tre scomparti aperti nella parte superiore, dove io tengo qua una crema, qui c'è una mini palette, qui ci sono dei cotton fioc, qui c'è lo struccante, una crema mani, una crema viso, qui c'è un lucidalabbra con un packaging che mi piace tantissimo, adesso ho posato un attimo gli orecchini, ma di solito quelli non li tengo lì, e poi ci sono due cassetti più piccoli e due cassetti più grossi. Io in questi piccolini tengo più che altro degli accessori, quindi il temperino, tengo delle salviette opacizzanti, nell'altro cassettino tengo tutti i rossetti e le matite labbra, in realtà quelli che utilizzo di più, perché poi ne ho degli altri, qua tengo le bustine con all'interno i pennelli, e qui tengo le palette, quindi palette viso, palette occhi e matite occhi. Poi ho una bustina a parte, in cui invece tengo fondotinta, mascare, eccetera, però per queste cose mi è sembrato molto utile, anche questo l'ho preso su Aliexpress, è arrivato smontato, quindi ho dovuto montarlo, però è stato abbastanza facile, perché c'erano comunque le istruzioni che erano molto chiare, ed è veramente un acquisto che davvero mi sta dando un sacco di soddisfazione, perché sono riuscita finalmente a mettere i miei trucchi in un modo ordinato, quindi è una cosa che veramente mi piace, mi dà molta, molta soddisfazione. Gli ultimi articoli che vi mostro fanno parte della stessa categoria, e sono i libretti, perché questi sono libretti, poi ci sono anche più grossi, da colorare per adulti, sono quelli antistress, perché adesso va molto di moda l'attività del colorare come antistress. Effettivamente con me funziona, perché quando io coloro mi rilasso tantissimo, e quindi è proprio un antistress. Ho una serie di libri e di riviste con disegni un pochino più complessi e sofisticati, rispetto a quelli per bambini, quindi sono definiti libri da colorare per adulti, non tanto perché abbiano delle cose osè, ma perché hanno dei disegni un pochino più complessi, ed effettivamente è un'attività che mi piace tantissimo. Li ho trovati anche su Aliexpress, ha pochissimi soldi, e ho deciso di comprarli. Questo è tutto dedicato ai viaggi, quindi questo è proprio un libro dedicato ai viaggi. Io spero che riusciate a vedere qualcosa, perché c'è un riflesso incredibile. Eccolo qua, Time Travel, e all'interno ci sono delle figure più o meno complesse. Questa è una, ad esempio, spero che la vediate. E insomma è tutto fatto così, tutto di questo genere. Ci sono dei disegni così, questo è un altro, un'altra figura, ed è veramente molto rilassante. Poi ne ho preso un altro, che come tema ha La foresta incantata, e sono praticamente dei disegni un po' fantasy, di questo genere qua. E sono molto carini, è veramente molto rilassante colorarli. Insomma, a me piace questa attività. Poi ne ho preso uno, tutto dedicato ai gatti. Questi sono solo gatti. Praticamente sono dei mandala dedicati ai gatti. Eccoli qua, ve ne faccio vedere uno. E io li trovo veramente molto molto carini. E sono cose comunque che mi piace fare, soprattutto alla sera, magari quando il mio compagno guarda qualcosa in televisione che a me non interessa. Rimango con lui, però io magari faccio qualcos'altro, e mi metto magari a fare un po' di arte, chiamiamola così. Quindi questi colori, questi disegni. E poi questo, che mi piaceva tantissimo, questo è dedicato alla favola della Bella e la Bestia. È una favola che a me non ha mai appassionato più di tanto. Però questa volta l'ho preso, dedicato a questa fiaba, perché le immagini che c'erano all'interno mi hanno veramente colpito e mi piacevano tantissimo. Ve ne faccio vedere una, ad esempio, la più bella. Eccola qua. Questa. Mi ha veramente colpito tantissimo. Sono tutte figure fatte così, di questo genere. Sono tutti da colorare, questi disegni. E io veramente l'ho trovato molto molto bello, questo libro. C'è anche, tra l'altro, la parte retro del libro, che volendo si può colorare, anche se magari è un po' più difficile, perché questa è carta lucida, quindi non so se si riuscirà con le matite. Però, insomma, è un'attività che mi piace, quindi ho preso anche questi libretti. Con Aliexpress, per il momento, ho finito, nel senso che non ho fatto altri ordini, però sicuramente in futuro arriveranno altri video, perché è un sito che comunque mi piace e sul quale spesso acquisto delle cose. Quindi, poi, quando ne accumulo un po', sicuramente vi farò il video. Però, per adesso, questi sono tutti i miei acquisti. Fatemi sapere nei commenti se acquistate anche voi da Aliexpress, ma sicuramente sì, perché è un sito famosissimo. Vi invito ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.